Inat vede il mercato italiano del private banking? Competitivo, aggregante perché ci saranno aggregazioni tra le realtà più piccole, già iniziato questo processo, però è interessante con tassi di crescita positivi nei prossimi anni. Per quanto vi riguarda andate avanti da soli o pensate anche voi di partecipare al risico? No, abbiamo deciso di crescere per l'interno e quindi abbiamo un piano di assunzione di nuovi private banker ma andremo avanti da soli. Quali sono i profili ricercati? Noi cerchiamo dimensioni di portafogli medio-alti, quindi profili che abbiano minimo 50 milioni di asset under management. Grazie mille.